Questa mattina c'è stata una partita di calcio tra gli ospiti immigrati e i calciatori dell'Avellino. Un evento molto bello che li ha fatti sentire a casa di pieno coinvolgimento. Giovedì nella sala consigliare ci sarà un evento forse quello più che ritengo sia pregnante perché i nostri giovani ospiti immigrati siederanno nei banchi del Consiglio Comunale insieme ai nostri discenti e ai nonni di Mercogliano in una riflessione dal titolo Immigrati, Generazioni e Confronto con Sua Eccellenza il Prefettore di Avellino e il Presidente dell'Avellino altri attori istituzionali. Anche qui un momento importante visto che i nostri giovani stanno andando all'estero oggi il tema è più che attuale che mai. E venerdì finiremo con una partita di pallavolo ospiti dei ragazzi della nostra scuola media di Mercogliano che vedrà protagonisti sempre questi giovani. Noi siamo una città che unisce e quindi anche rispetto alle difficoltà che varie attenie, varie culture, varie religioni possono apportare la bravura di un popolo e quindi di una comunità e quella anche di sapere ascoltare e condividere. E un sindaco fortunato come me ha la fortuna di fare il sindaco in una comunità straordinaria. Ringrazio i miei cittadini per questo grande senso di civiltà.